Oggi parliamo del chip CD4066BE che contiene al suo interno 4 switch comandabili con dei segnali digitali sono switch che permettono il passaggio di segnali analogici molto interessante per sviluppare tutta una serie di commutatori e utile per anche giocare con magari suoni o circuiti un pochino più complicati iniziamo subito vediamo oggi un chip il CD4066BE che è un circuito integrato molto particolare contiene 4 interruttori, 4 switch di tipo CMOS quindi possono essere controllati applicando un segnale sui pin di controllo e questi qua si comportano come dei piccoli relay possono far passare un segnale analogico digitale il segnale deve essere tutto positivo quindi non può essere positivo e negativo quindi deve essere compreso tra 0V e VDD quindi segnali digitali o analogici se il vostro segnale analogico si trova a cavallo dello zero quindi immaginate una sinusoide o un segnale audio dovete traslarlo come si può fare per esempio con un operazionale magari lo vediamo in uno dei prossimi video è utilissimo per creare degli switch audio o di segnale digitali quindi che non prevedono un contatto meccanico o fisico con l'oggetto proviamo a realizzare un semplice circuito come avete visto ci sono 4 switch all'interno del 4066 andiamo a creare un circuito per verificarne il funzionamento quindi useremo il primo con i pin 1 e 2 e 13 è bidirezionale quindi il segnale può entrare indifferentemente da una parte o da quell'altra anche qui se hanno scritto input e output ma se aprite un datasheet completo trovate la descrizione corretta quindi andiamo a realizzare un circuito semplicissimo dove avremo la parte centrale del nostro circuito formata dallo switch offerto dal 4066 lo vado a segnare qui questo è il pin 1 e 2 e poi avremo un pin di controllo che in questo caso è il pin 13 il pin 13 lo andiamo a pilotare utilizzando un pulsante quindi andremo a realizzare sulla breadboard da qualche parte il classico circuito con il pulsante collegato in pull down con una resistenza da 10k l'alimentazione è 5 volt e quindi il 13 lo porteremo qui in mezzo in questo modo premendo il tasto daremo il 5 volt quando il tasto non è premuto qui ho 0 e quindi il nostro switch viene mantenuto aperto cioè non passa corrente ora per verificarlo ah beh ovviamente ricordatevi di alimentare il chip vado a segnare qua l'alimentazione quindi abbiamo il 5 volt che va sul pin 14 e sul pin 7 invece portiamo il ground di 0 volt per provare il circuito sono andato a realizzare un semplicissimo circuito analogico dove vado a alimentare un led usando un trimmer quindi veramente una cosa rapida per provare il funzionamento quindi un trimmer da 10k collegato al nostro switch e dall'altra parte ho collegato poi un led con la classica resistenza da 3,90 variando il trimmer cambieremo la tensione quindi vedete il led che varia la sua luce quindi ricordatevi qui dentro solo tensioni comprese tra 0 e l'alimentazione 5 volt e può essere bidirezionale andiamo a realizzarlo su una breadboard ok lo vedete qui montato su una breadboard allora qui sulla parte di sinistra vedete il pulsantino con resistenza di pull down da 10k questa parte del pulsante è collegata all'alimentazione positiva quindi il filo giallo va sul pin 13 del nostro chip il chip l'ho messo qua in mezzo alla breadboard vedete il pin 7 collegato al ground e il pin 14 che va sul 5 volt poi usiamo il pin 1 e 2 qui abbiamo il trimmer collegato tra 5 volt e 0 il centrale viene portato con il jumper sul pin 1 dall'altra parte il pin 2 lo portiamo sul led questo è il nostro led quindi anodo, il catodo a destra, resistenza da 3,90 e finisce a ground questo qua è il nostro circuito, proviamo a verificare il funzionamento vedete che premendo il tasto si accende cambio la luminosità agendo sul trimmer ogni volta che premo vedete che si accende il led è sempre comodo avere nel cassetto qualche CD4066 servono per fare tutte queste operazioni di switch molto utile, ho fatto vari circuiti bene, spero sia stato interessante vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!